Ah, che benessere! Finalmente posso tornare a registrare con la mia fantastica Fuji XS10. Mi è mancata, non vi potete immaginare quanto. Soprattutto il display da quella parte. Ah, che bello! E se volete scoprire il perché posso tornare, andatevi a guardare l'unboxing, ok? Detto questo, iniziamo! Bentornati ragazzi, ancora una volta qui online su questo bellissimo, fantastico canale. Tra l'altro, appena arrivato a 5.000 iscritti. Ragazzi, grazie mille per tutto il supporto. Veramente, non potete immaginare la mia gioia dove arriva. Ma comunque, bentornati qui sul canale per un nuovo video. E oggi volevo farvi vedere cosa porto con me in giro quando devo registrare un po' di video, tipo vlog o cose. Ed è un, diciamo, setup veramente super portatile che potrebbe magari essere utile ad alcuni di voi che magari vogliono iniziare, eccetera, eccetera. Ma anche per vloggare un pochettino perché mi andava, tipo, troppo, voi non potete immaginare. Comunque, ragazzi, ho appena finito di registrare qualche video per TikTok. E qui vedete già una componente fondamentale di tutto quello che sto per mostrarvi. E ho anche appena finito di rispondere a un po' di mail. Sto preparando un progettino molto interessante e ho bisogno di alcuni gadget e un prodotto specifico. Quindi ho iniziato a contattare un po' di aziende e nel caso lo compriamo. Questa è la bellezza dell'influencer marketing. Comunque, però noi ci proviamo, vediamo di realizzare qualcosa con qualche azienda. Anche perché facendolo potrei anche portarvi qualcosina in più. Quindi cerco sempre di, diciamo, ottimizzare il tutto. Detto questo, devo prima di iniziare a parlarvi di quello che è effettivamente il mio setup, sistemare una cosa. O meglio, adesso li prendo, eccoli qua. Questi tre. Da quando abbiamo effettuato effettivamente l'unboxing, io non ho ancora letto questi manga. Sono passati due giorni circa e voglio leggere, sono curioso, ma il problema è che non ho tempo. Quindi cosa faccio? Ed è una cosa che vi consiglio, anche quando volete, che ne so, iniziare a leggere. Di costringervi a farlo, ok? Di ricordarvelo, perché a volte mi metto nel letto e poi me ne dimentico. Quindi prendo questi tre e li metto sul mio bellissimo comodino. In modo da essere bello che, diciamo, è rinfrescato di quello che effettivamente debbo fare. Ho detto debbo, come dicono i professori all'università. Allora, il gadget del giorno è questo qui, o comunque la borsettina del giorno è questa qui. E una cosa molto importante, se notate bene da questa parte, tipo dove ho tutte le applicazioni del mio Mac, quelle che utilizzo di più, manca un'applicazione. Che bello, eh? Guardate, guardate molto bene. Magari mi metto adesso anche una piccola clip. Manca un'applicazione. Ditemi nei commenti quale e ditemi nei commenti perché. Vabbè, ve lo dico, sto facendo un altro esperimento. Che benessere, eh? Una vita molto felice e poco, diciamo. Stressante, eh? Proprio per quanto riguarda queste cose, tipo metodi produttivi, eccetera, eccetera. Veramente super, super poco stressante. E io devo ricordarmi che non devo guardare il display, ma devo guardare l'obiettivo. Detto questo, iniziamo subito e parliamo, che poi subito non è, parliamo della mia borsettina. Questa qui è una Peak Design, ragazzi, che ho acquistato un po' di tempo fa. Tra l'altro ve l'ho presentata anche in un unboxing. Ed è una borsettina, in realtà una specie di marsupio tracolla, ecco così sicuramente meglio, che mi sta dando un sacco di soddisfazioni. E la utilizzo un po' per le riunioni, quando non ho bisogno di iPad e Macbook. Quindi ho bisogno magari solo dello smartphone, solo di un'agenda, così, o comunque il mio bullet journal. Non ho bisogno di grosse, diciamo, macchine. E anche per registrare magari qualche video in giro. Ma non solo, perché essendo così piccola e compatta, è ottima anche per inserire proprio quella che sta registrando questo video, quindi la mia Fuji, all'interno dei vari zaini. Perché ho solo uno zaino fotografico e a volte devo portare tanta attrezzatura per magari determinati lavori. E quindi metto la Fuji qua dentro, che mi risulta bella protetta. E poi questa borsa va direttamente, per esempio, nella borsa di... Non vi ricordo mai il nome, quella che ormai avete visto anche in altri video e che avete visto anche su Instagram, perché la sto utilizzando per andare anche in palestra. Quindi veramente il top questo gadgettino, ma è super comodo proprio nel quotidiano, perché come vedete è super piccolo e quindi ve la agganciate e state belli che tranquilli. È veramente una comodità pazzesca. Ma cosa vado ad inserire qua dentro e cosa può entrare? Adesso ve lo mostro. Allora, tralasciando il fatto che effettivamente ci entra la Fuji, quindi un corpo, una mirrorless del genere, ci entra tranquillamente, e tralasciando che posso anche inserire anche il manfruttino che poi sta reggendo, e quindi il Pixie che sta reggendo questa fotocamera, all'interno di solito io metto aggettistica, ma che sto dicendo aggettistica? Oggettistica gadget, ecco così forse è meglio, dedicata a smartphone. E al centro c'è questo qui che adesso state vedendo qui, che sarebbe questo qui, che è un piccolo, diciamo, treppiedino per smartphone della Xiaomi, che ho recensito in un video sul primo canale, in una top gadget. Ragazzi, mi dà un sacco di soddisfazione di questo cosino, perché è piccolo, compatto, come vedete, ma si allunga, ma non è solo un selfie stick, è ottimo per le riprese ovviamente orizzontale, è ottimo per le riprese verticali, costa pochissimo, tipo 14 euro, 15 euro, vi lascerò magari il link in basso, ma soprattutto è anche un treppiedino per l'appunto, voi lo mettete così e state belli che tranquilli. E ragazzi, fidatevi di me, è veramente una gioia da utilizzare, veramente fantastico, a me dà un sacco di soddisfazioni. Tra l'altro ha anche un piccolo telecomandino che si stacca e quindi potete anche lavorare in remoto, ma sappiate che questa è una cosa che utilizzo poco, visto che ho sempre al polso il mio Apple Watch, che è fantastico sotto questo punto di vista. Smartphone principale che mi porto con me quando devo fare i video? Beh, ovviamente, lui, iPhone 13 Pro, con questa bellissima cover della Mujo, che in questo caso ha la carta. Prossimamente vi aggiungerò anche su un paio di cose relativi alla palestra, quindi c'entra anche questa cartina qui. E poi, cosa molto importante, è quello che c'è all'interno, per l'appunto. Allora, partiamo dalla taschina qui, dove effettivamente vado ad inserire questi qua. Questi sono i Rode VideoMic Go, Rode Wireless Go, esatto. E qui inserirebbero dei microfonini wireless, ottimi per interviste e per vlog anche. Perché? Perché questo voi lo attaccate da qualche parte. Io di solito l'attacco da una presa di queste, perché appunto avendo la mollettina da questa parte vado bello che tranquillo, oppure lo attacco alla cover, una cosa del genere. Visto che per l'appunto ho questa parte qui, adesso la faccio vedere, là, non so se la state vedendo, ma comunque c'è una parte, vedete, che sarebbe il wallet, io la infilo qui e vado bello che tranquillo. E perché? Comodo perché essendo wireless posso girare, allontanarmi anche dal dispositivo e sarebbe bello che tranquillo e sicuro di catturare un audio spettacolare, proprio al top. Quindi veramente eccezionale. Ovviamente avete bisogno di un po' di adattatori, il che non è fantastico con iPhone, però vabbè, questo ci passa il convento e ci accontentiamo, ma è comunque un ottimo accessorio, un ottimo gadget, costa, ma è professionale, lo utilizzo per lavoro anche. Detto questo, eliminando questo, cosa abbiamo più? Beh, abbiamo un po' di taschine, come vedete, e io inserisco sempre questo gadgettino. Sì, però questo mi costringi anche a volte a, diciamo, eliminare questa cover di Mucho perché non è MagSafe, quindi ho bisogno di una cover MagSafe, ma vabbè, comunque sappiate che utilizzo questo qui, che è molto molto utile, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dello smartphone così a mano libera, perché mi dà quella presa un attimino migliore della Spigen, che mi dà veramente un aiuto. pazzesco e tra l'altro spesso lo aggancio direttamente alla cover in modo da avere sempre il tutto bello che è pronto. Quindi prendo questo, lo aggancio alla cover, quando ho bisogno di avere questo gadget, tolgo quella cover e aggancio questo qui con la cover. Non so se sono stato chiaro, vi farò vedere magari con qualche clip. Spettacolare questa cosa della post-production. Poi cosa porto con me? Bene, ovviamente, aggendina, sono passato un attimino alla mini, perché ho finito quella che utilizzavo fino a poco fa, quindi quella grossa A5, e visto che avevo già acquistata questa qui, e visto che mi sto trovando bene, ho detto, vabbè, proviamola, o comunque continuiamo ad utilizzare questa, anche perché sono sempre, diciamo, in giro, e ultimamente mi va un attimo di spostarmi anche un pochettino, quindi top. E questa qui mi dà tante tante soddisfazioni e funziona bene, della Moleskine, è una pocket e la penna sempre questa qui, perché è la migliore in assoluto. È la migliore in assoluto. Mettiamola da quella parte e poi che cosa abbiamo? Cuffie. Sto utilizzando le iPods quando sono in giro, non in palestra, ma sapete bene che sono quelle più comode, secondo me, per quanto riguarda le chiamate, tutte queste cose qui, videochiamate, eccetera, eccetera. Sono comode, le mettete all'orecchio e state belli che tranquilli. Poi per esempio, in macchina, a volte, non potete mettere cuffie che vi isolano. Dovete avere qualcosa che vi permette di sentire un po' il mondo che vi circonda, perché è importante, se no fate incidenti che non è una cosa bellissima. Poi cosa abbiamo più? Altri due gadget super essenziali. Abbastanza minimal, come vedete, ragazzi, perché è importante per me. Allora, questo qui, che mi permette di pulire, ovviamente, dispositivo, display, fotocamere e tutto quello che porto con me, essenziale, per fare clip spettacolari. E poi porto, ovviamente, questo qui, il power bank di Anker MagSafe. perché, ovviamente, lo aggancio e sto bello che tranquillo e sicuro di avere sempre un po' di autonomia in più, perché quando registri foto, cioè video e fai foto con smartphone, la batteria, se la ciuccia, ok? Quindi, ottimo avere. E stop, ragazzi, questo è quello che porto con me. Questa è la borsa, veramente super piccola, compatta, della Peak Design, fatta super bene. l'unica cosa è che costa abbastanza, tanto, ma è anche difficile da trovare, quindi prestate attenzione, magari se la trovo, ve la lascio, link in description per quanto riguarda Amazon, oppure vi lascerò il sito direttamente, non lo so. Comunque, non mi hanno pagato, ovviamente l'ho pagata io, però è bella. Una delle migliori e anche esteticamente mi appaga troppo e voi lo sapete che quando avete una cosa bella esteticamente devo averla, soprattutto se ne ho bisogno, anche se costa un pochettino di più, se è bella esteticamente io impazzisco. Sono un po' così. Amo il design e prossimamente vedete cose anche relative a questo. Vi sto dando troppi spoiler ultimamente, vi sto dicendo troppe cose, ma vabbè. Detto questo, io vi ringrazio per la vision, qui stanno arrivando mail, cose, non finirò mai di lavorare. Devo registrare anche un altro video, quindi ci vediamo prossimamente. Sì. Stanno arrivando anche altri gadget, quindi altri unboxing, cose, di progetti, poi ci dovrebbe essere un V, non ve lo dico più. E preparatevi per un prossimo episodio di produttività ai massimi livelli. Un bacio, un abbraccio, grazie mille ancora per i 5.000, vi voglio troppo bene. Ciao ragazzi.